Un incontro di grande interesse, quello tenutosi nella sede di Confindustria Vibo Valencia, durante il quale è stato illustrato il progetto di riconversione del sito industriale dismesso della ex Italcementi a Vibo Marina. Il progetto, promosso da Metals Reborn, gruppo Engitech Technologies, prevede un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro che consentirà di recuperare gran parte dell'area un tempo occupata dal cementificio e di insediare una nuova realtà economica destinata alla produzione di zinco, ferrolega e altre materie prime ricavate dalla trasformazione dei sottoprodotti delle acciaierie attraverso un processo produttivo che si baserà su tecnologie avanzatissime a impatto zero. Nel corso dell'incontro è stato illustrato nel dettaglio il piano industriale, nonché i processi produttivi e la ricaduta occupazionale diretta e sull'indotto. Noi abbiamo calcolato circa 95 posti di lavoro come assunti diretti della società, ovviamente questo non sappiamo bene calcolare perché è abbastanza difficile calcolare l'indotto, ma normalmente statisticamente si arriva una volta e mezza a due, quindi altri 150-200 posti, siamo pessimisti, altri 100 posti di lavoro. Questi posti di lavoro oltretutto saranno anche qualificati, noi avremo bisogno di personale qualificato, ci saranno parecchi laureati, ci saranno parecchi specializzati e almeno le scuole professionali sono richieste. Una cosa che volevo sottolineare è che noi abbiamo anche l'intenzione, fa parte del progetto la costruzione di una unità di ricerca e sviluppo che ci serve a migliorare, perché noi crediamo nel miglioramento continuo, questa tecnologia che è una tecnologia innovativa, cioè non ce n'è al mondo. È assolutamente rivoluzionaria rispetto a quello che viene fatto adesso con questi sottoprodotti delle acciaierie, che oggi come oggi per l'80% vanno in discarica, anche dopo quel trattamento povero che fanno, mentre noi con questa nuova tecnologia idrometallurgica andiamo a recuperare tutti i componenti e li trasformiamo in materiale che ha valore e può essere venduto sul mercato e non abbiamo bisogno di discarica. Ormai il progetto è in fase avanzata, è un anno e mezzo che l'azienda lavora, è un'azienda già che è presente sul territorio, perché ha un'azienda che gestisce qui in provincia di Vibovalente, un'azienda metalmeccanica, che quindi non è un'azienda improvvisata o un'azienda che arriva dal nulla, è una società con sede a Milano che ha parecchi dipendenti e parecchi milioni da investire. Quindi il progetto è avanzato, il rogito dell'atto notarile è stato fatto, quindi la parte del tarino è stata comprata e addirittura hanno diritto di prelazione sull'altra parte, perché lì il cementificio è stato diviso in quattro tranche, in quattro parti, loro hanno acquistato una parte, ma vorrebbero subito acquistare l'altra. E poi c'è un lavoro, qual è lo stato dell'arte? È che si riqualifica un capannone lunghissimo, quindi non si mangia terreno, quindi lo stesso capannone dove lavorava i terciamenti, ci sarà fatto questo impianto automatizzato per il recupero di alcuni elementi ferrosi, quindi l'investimento è di sicuro che va avanti. Sembra un'occasione particolarmente importante, significativa per il territorio, innanzitutto perché si va a recuperare, a riqualificare, a riutilizzare un sito industriale dismesso da parecchi anni e questa società andrà quindi a riutilizzare. Poi è importante proprio perché potrà essere un'occasione di sviluppo, di crescita per questo territorio. Ci sono molte imprese che intendono venire ad investire perché sta divenendo sempre più attrattivo. Non dimentichiamo che l'attenzione che questa società ha avuto per il nostro territorio è dovuto sostanzialmente al fatto che si tratta di una zona economica speciale.